Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se è ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin o lo scacciapensieri che fa soltanto blowing blowing, la cosa importante è che lo faccia al momento giusto, il meglio possibile, che diventi un ottimo triangolo un impeccabile scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica. Forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.